Fere, torna l'uno contro uno con i fucili più epico di sempre su Minecraft! Sei pronta? Sto già prendendo armi, Stef! Armi, armatura, tutto, vado! Da cosa devo iniziare? Dimmi, dimmi, dimmi! Sono in ordine le armi, Fere! Ah, quindi il Weebley? Un, sì! Era ovvio, Fere! Ma dove sono i proiettili sotto, Stef? Sì, sì, sono quelli sotto! Le hai messe tutte male! Di solito non si organizzano così le armi, però! È perché ce l'ha poco spazio, ok? Mi sta già criticando! Comunque, uno contro uno, con i fucili, abbiamo delle armi abbastanza particolari! Mappa gigantesca, come sempre, quando si fa una kill si può passare all'arma successiva E vince chi utilizza tutte le armi e fa la kill con l'ultima arma per primo! Molto, molto semplice! Allora, aspetta! Ok, con sinistra! Lasso a destra si mira, a sinistra si spara! Mi dimentico sempre, quindi faccio la prova prima di iniziare! Ok, io sono già andato! Anche io! Molto angusto sto labirinto! È gigante, soprattutto! È gigante! Poi, questa texture, cioè vabbè, il melone, il watermelon, alla fine non ti fa capire nulla! Perché vedi sempre lo stesso colore e dopo un po' non ci capisci più niente! Lo so! Ok! Allora, abbiamo un tipo di arma, che è un revolver, che quindi spara lento, fa abbastanza danno, ma spara davvero lento! Lo so, infatti è odioso! Non so perché tu hai preso la scelta di iniziare proprio con questo! Perché si inizia sempre con armi brutte! È parte delle... Eh, ma abbastanza se... Che succede? Certo che se te stai zitta così... Eccola! Eccolo, il maledetto! L'ho visto a salire nella torre, mentre io ero appena salita! Ma ti sto prendendo! No! Ti sto perlomeno sfiorando! No! No, allora questa cosa non fa dall'alto, cioè davvero... È quello che ho pensato anche io! È imprecisa, è imprecisa! Quindi scendo, però tu sai che sto scendendo, quindi... Sei ferito! Perché non sto più sparando? È scarico? Oh, cavolo! Dov'è? 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 No, sto ricaricando! Quanto ci metto a ricaricare? Quanto ci mette? Tantissimo! Dove cavolo sei? Oh! Cioè, non spara mai! Non spara mai! Oh, è difficile questa arma, eh! È terribile, Steph! Ma non si può iniziare così! Dove cavolo sono finito? Come dove sei? E mi... Non so più dove è casa mia... Eccola! Non trovo più casa mia! Hai notato che si recupera molto meno vita rispetto a prima? Sì, ho notato! L'ho fatto di proposito, perché così le cose sono tutte più difficili! E poi ti dicevo, cavolo, non recupero vita! Scusa, Steph, ma non posso rimanere con questa per tutto... Per tutto il fight! Da ora in poi non verrò più a cercarti in base, però! Però era davvero grave la situazione, quindi... Va bene! Da bene! Allora, quindi la seconda è questa Glock, giusto? Esatto! Ok! Allora, io sono già carico, già pronto! Questa volta mi ha gioco in modo diverso, raga! Questa volta mi ha gioco in modo diverso! Ok! Cosa vuol dire? Non ti interessa! Questa volta se vado in vantaggio, il vantaggio non scomparirà, Fere! E le armi dopo diventano molto più forti! Quindi pensa se rimani a pistola contro Mitra! No, sarebbe anche ora che diventassero belle forti! Dov'è la mia Ferettina? Non la trovo proprio mai! Da che cavolo si è andata? In giro! E quello è ovvio! In mezzo ai meloni! In mezzo ai meloni? Mm-hmm! Ok! E va sempre lì, eh! È super il modo migliore per vedere dove sei! Però il problema... No! No! Ho finito i proiettili? No! No, no, no! Calmo! Ma perché? Ho finito i proiettili, Steph! Me ne è dati troppo pochi! Mi prendete tutti i magazine! Eh, ma no, no! Li hai già finiti tutti? Sì! Ma forse anche io! Colpi di bistecca ti prendo! Che devo fare, Steph? Perché mi hai messo così pochi colpi? Che kill all'altro vince! Che triste, che triste! Però cambiamo tutte e due armi! Beh, ovvio! Tutte e due! E muori! Ho vinto! Ciao, Steph! Vado a cambiarmi arma! Le bistecche in faccia! Siccome il mio spazio in questo setup che ho fatto era poco, non potevo mettere troppi caricatori! Devi stare attento a sparare! Scusami! Cosa? Cosa vuol dire questo? Eh, che c'era poco spazio nelle ceste! Ma vai via! Guarda che io ho già il mitra, eh! Non riesco a trovare la mia base, Steph! È difficilissimo! Non mi puoi stressare così! Basta guardare in alto e vedi la tua bandiera! Allora, questa volta mi prendo entrambi i caricatori, non sbaglio più! Eh, brava! Non sbaglio più! Ci manca solo quello! Ok! Oh, cavolo! Devo mangiare però, sono bassissima di vita! Mi hai dato dei biceffoni! Meno male! Che sto aspettando di recuperare vita che è davvero lento! Oh, cavolo! Oh, mi hai fatto malissimo! Ti sembra, Steph? Quanto l'hai visto? Non lo so, stavo mangiando, mi sono girata topino! Eh, io sto... Oh, vabbè! Eh, quest'arma è stranissima di forma! Ti anniento! Io ti anniento! Io ti anniento! Io ti anniento! Cavolo, fa malissimo quest'arma! Sì, molto! Quindi non dovrei avere problemi a ucciderti! Dove sei? Dove sei, maledetta? Dove cavolo sei? Non ti trovo! Scarsone! Vieni fuori! Ti stavo trollando! Ero dietro di te! Lo so! Ok! Ho capito! Allora! Allora, ricarico! Perché di nuovo il non magazine? Non rompere! Perché praticamente... Eh, lo so! Ti scarica il caricatore, fa cose strane! Ti scarica e rimette sempre lo stesso caricatore! Eh, lo so! Quindi tu devi scaricare un caricatore se c'è troppo scarico! Però è una cosa un po' noiosa, perché se non te ne accorgi poi rimani senza proiettare! Che bella che è quest'arma, però! Povero Steph! Quando non mi prende le spalle muore sempre! Povero! Ancora prima che arrivassi alla gesto! No, sapevo perché sei davvero banale! Prima che arrivassi alla gesto! Banale e noioso! Ci stava, secondo me! Cosa c'è adesso? Vediamo! Sei stata lenta! E ti ho punita! M1928! È il Thompson, Fede! Bellissimo il Thompson! Non ce l'ho presente! Eh, molto Call of Duty in effetti! Sì, 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 sì! No, vado più! Cioè, conosco bene i fucili d'assalto! Cavolo! Che paura! Porca miseria! Che paura! Porca miseria! Questo è molto buono senza mirare! Mi è piaciuto! Bello, 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 bello! Bello, ok! Vantaggio per Steph! Vantaggio per Steph! AKM! Cosa? Finalmente! Ok! Questi sono caricatori a 75! È impossibile! Oh, che cavolo vuol dire? Che cavolo vuol dire? Che cavolo vuol dire? Questa qua mi è dietro? Dai, Steph! È brutta questa arma! Ma ti uccide! Non è vero? È bellissima! È brutta! Allora, riprenditela te! Ok! Ma che ok! Dove sei? Ah, mi hai perso! Oh, ti ho perso! È certo! No, cioè, non mi piace! Mi hai lasciato basso, eh! Perché non hai sparato il roba? Mi hai lasciato basso! No, no, sono basso, sono basso! Mi dà sempre l'impressione che non ti stia colpendo! No, no, no! Invece mi hai preso bene! Mi hai lasciato a tre cuori e ti ho visto prima io! Stai sparando da una torre, Steph! Ok! Sì, non ho fatto in tempo di andare a cambiare l'arma! Quindi sto cercando di difendermi! Stai salendo che ti distruggo! Ai! Ti ho fregato! Aug! Non è un verso, è il nome dell'arma! Come? Sì! Cavolo, non riesco a tornare alla mia base, Steph! È troppo complicato! Ciao, fare... Non ti sto sparando! Ok, stavo già per spararti! Mi hai notato! Eh, vabbè, ho! Ok! Io ho già l'arma nuova! Mi sono dimenticata quella che devo prendere! L'aug! Eh... Quella dopo! No, la KM! Ah, è vero! Io avevo ancora l'altra! Hai ragione! Cavolo, perché sta diventando un po' un disastro il mio inventario, quindi era difficile da capire! Ok, KM ci sono! Pronta! Però Steph è zitto! Sì, perché è un'arma complessa! Quindi si sta nascondendo! Oh, tu li hai scelte, Steph, stavolta! Non ci ho mai preso, vero? Sì, che mi hai preso! Non ho ricarico! Ma scusami un attimo! Termi sono un po' strane con la ricarica, però! Te l'ho detto! Ma ti sto prendendo! No! Come no? Beh, la KM non è proprio mirata da lontano! Ho notato! Quanti colpi ho nel caricatore? Quattro! Devo per forza a finire questo e mettere l'altro magazine! Ok! Raga, non so come fare! Aia! Ti ho preso stavolta! Stiamo scher... Oddio, Steph, ma che armai se non riesci a figliarmi? Non ti ho mai preso? All'inizio sì, ma non mi hai più ripreso! Adesso mai! Mai! No, non è possibile! Ho paura per quell'arma, ho davvero paura! Penso che rimarremmo incagliati là per un po' di tempo! Cioè, stavo pure sparando un colpo alla volta per prenderla! Ti vedevo! Infatti dicevo, ma che cavolo! Vabbè! Mi hai messo due KM, è normale? No, ho sbagliato! Ah, ok! Cioè, non ho capito se lo dovevo riprendere, erano due round di KM! No, no, avevo sbagliato, ok? Non mi giudicherei! Ok! Per la mia sola speranza! Anche per me! Ok, ok! Perché ho capito che da vicino faceva troppo schifo, quindi Steph ho dovuto! Eh, Tar! Vediamo un po'! Che cavolo è il Tar? Non lo so! Vediamo! No, vai via! Maledetto! Corri, 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 corri! Questo mi vuole uccidere! Corri, Steph! Dove sei finito? Corri, Steph! Perché ti perdo così facilmente? Ok! Ok, ok! Occhio però, occhio, dente! Non ti faccio andare in tempo in base! Devi fai tarli di nuovo, cara! Io mi giro e ti riuscido, guarda! Se vuoi tornare a casa devi battermi! Ma se non so più neanche dove è casa mia! Era già lì pronto come un infame! Yes! Da dove? Yes! Non lo so! Hai trapassato le angurie, Steph! Non ne vedo neanche io! Le hai trapassate! Che battaglia! Ok, allora iniziamo ad essere alla fase finale! Il Saiga mi sa che è un fucile a pompa, eh! Vero? Da, ormai anche a me sembra! Ok, devo mangiare un attimo! Ma! Ok, non ci devo mangiare! Aspetta! Ok, ok! Col fucile a pompa sono bravo! Eh sì! Dov'è? Mi sa che dopo questa mancano tipo quattro armi! Quindi chi va in vantaggio adesso? Sono ancora tante! Sì, sì, sono tante! Cavolo! Bello, bello! Ricarica, ricarica! Devi essere veloce, cara! Sta arrivando! Ma non mi puoi uccidere in base! Vai via! Dov'è? 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 Ho sbagliato base! Ah, allora... Rubo l'armatela! Dai, ti prego! Non puoi! Uno contro uno! Devi continuare col pompa! Dai! Noioso! No, io ti ho ucciso quindi la devo cambiare, caro mio! Sì, lo so, ma dico, dovevi difenderti con quello! Allora... Un altro fucile a pompa dei proiettivi! Sì, esatto, poi ci sono due fucili da cechino e infine il round finale che sarà esplosivo! E non aggiungo altro! Oddio, facciamo esplodere tutto! Ci vuole una vita a ricaricare sto robo, eh! Lo so! Fai attenzione! Cara, siamo in guerra! Sì, ma non valeva come mi hai ucciso! Mi hai attaccato alle spalle! Dove sei che mi hai visto? Ho visto qualche movimento! Cioè, con la coda dell'occhio mi è parso! Sì, sì, certo! No, su serio, su serio! Sì, sì, sì! Però non ti vedo, no, non lo so dove... Cosa? Cosa? Perché? Perché sei più forte! Io te ne ho dato due! Tu me ne dai uno e mi one shot? Headshot! Credo, non lo so! Ne ricarico altri! Ok! Se tu riesci a cechino contro un fucile a pompa! Fa molto ridere! Fede! Hai sbagliato i colpi, Steph? Davvero? Sì! Dai, non ti vedo! Ma che arma avevi? Il pompa ancora! Ah, ecco perché hai stravinto! Eh sì, ero un round indietro a te! Eh, questo è strano, Steph! Ti ho colpito parecchio e non mi è sembrato facesse chissà quanto... Cioè, lo fa da una! Porca miseria, mi ha visto! No, amo! Steph, non ricarica più sta copa! Hai usato due caricatori? Sì! È impossibile! Cioè, non riesco a uscire! No, ce l'hai! Adesso ce li hai i colpi, eh! Eh, ho capito! Perché sto usando un secondo! Il problema è che non ti uccide! No problem! Guarda! Quante volte mi devo colpire! No, 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 no! Vabbè, rimango con questa perché devo fare due round! Ovviamente mi allontano un po'! Perché sono... È il WSS! Non te lo ricordi su PUBG? È quello che parte già col mirino! Ah, sì! Che infatti fa schifo! Esatto! Che non fa danno! E nessuno lo prende, quindi... Ok! Chi fa questa kill va all'ultima arma che sono solo granate! Chi fa la kill di granate vince! Sei in ansia, cara? No! Hai paura? Sono sempre stata in vantaggio, quindi non sarebbe giusto che tu vinca! Ah, sì? Mmh! Capisco! Però ti troverò! No, no, no! Ricarica! Ricarica! Non ho più colpi! Non ho più colpi! No, sta roba però mi hai messo colpi che non vanno! Ma, ma... Guarda! E sono finiti! Sono già finiti! Erano due caricatori da venti colpi! Eh, non fa danno! E non me l'aspettavo! Basta! Prendi le granate anche tu! Mi hai rotto le scatole, basta! Bene! No, mi hai rotto le scatole! Allora... Mi hai messo le armi fasulle alla fine! Come si tira? Con destro o sinistro? Non ho idea! Provo! Per farmi andare in svantaggio! Due volte sinistro! Ah? Due volte sinistro! Stai scherzando? Ti ho preso a caso tirando una granata senza vedere! Com'è possibile? Due volte! No, ma ti stai uccidendo? Sì, sì! Ah, allora non ti uccido io! Ecco, come? Freni chi fiusi! Come? Perché devi lanciarla! Beh, perché esplodo? Sinistro, sinistro! Te l'hai detto sinistro? Eh, esatto! Esplodo io! Raga, davvero! Cioè! Non è che ti rimbalza tipo in te! Prova da lì! Vai! Fere ha le granate bagate! Cioè, fammi vedere come la tiri tu, scusami! Tu fai così? Così? Eh, va! La mia non va! Cioè, io faccio la sua tutta identica cosa, ragazzi! Fere ha le granate rotte! Ho provato anche a tenere premuto, a cambiare tasto, niente! Con destro? No! Vabbè, raga, è finita la sfida! È molto triste, cavolo! Perché io mi auto-esplodo? Non lo so! Cavolo, qua c'è una voragine enorme! Ha rovinato l'uno contro l'uno finale! Di solito è Steph che fai fail, invece oggi è Fere! Ma non lo so perché! Dopo le calamite sui lucky block, adesso ha anche le granate che auto-esplodono! Vabbè, ci fermiamo così! Qua sotto altri video! Speriamo comunque che il video vi sia piaciuto! La sfida è stata abbastanza vincente, a parte le auto-esplosioni che dovremmo cercare di dimenticare! È stata una bella sorpresa! Lasciate tanti like e ci vediamo in un prossimo video! Ciao ciao!